Gesualdo, novembre 1909, dicembre 1909, padre Pio, studente di teologia morale, quindi frate in preparazione alla sua ordinazione sacerdotale, vive in questa camera per circa un mese. Era venuto appunto per studiare insieme agli altri suoi compagni teologia morale, ma dopo un mese, per gravi motivi di salute, fu consigliato di rientrare a Pietrelcina, perché l'area del suo paese gli apportava dei benefici, e lì dovette restare per circa sette anni. I suoi amici, soprattutto la testimonianza del suo compagno di noviziato, padre Guglielmo de San Giovanni Rotondo, lo descrivono come un frate appunto malaticcio che soffriva, ma di cui si sentiva la mancanza quando era lontano da loro. E quando loro lo rivedevano, lo rincontravano, oppure padre Pio tornava da loro, era una festa, era una gioia, e padre Guglielmo scrive, quando lo rivedevamo, ci incontravamo, sembrava di non esserci mai separati, perché c'era un legame, un legame profondo, appunto dovuto dall'amore, un legame nato dall'amore, nato dalla scelta anche di vita religiosa e fraterna. E allora qui in questo posto, in questa piccola cella, chiaramente è stata un po' rivista nel tempo, ma era un po' più piccola di questa, si è dovuto un po' allargare per dare la possibilità alle persone di venire a visitarla. Padre Pio passava il tempo nella preghiera, aveva un piccolo tavolo per studiare, aveva poi anche la disciplina, questo oggetto metallico con cui si battevano il petto pensando e meditando la passione del Signore. una disciplina è uno strumento che lui imparò a conoscere già dal suo noviziato. Abbiamo parlato della mancanza che i suoi amici sentivano di Padre Pio, mancanza per il suo amore, per le sue attenzioni, per il rispetto e per il bene che voleva i suoi confratelli. Bene, questi segni, questa testimonianza che Padre Guglielmo da San Giovanni Rotondo e non solo fa di Padre Pio, ci dimostra e ci fa entrare anche nel tema che stiamo toccando qui a Gesualdo, e cioè che l'amore verso gli altri, l'amore verso i fratelli, il rispetto verso i fratelli è il segno che Gesù vive in me e io vivo in lui. L'amore verso il prossimo nasce dall'amore che Dio ha per me e questo fa sì che questo amore diventi la culla dove lui può distendersi e riposare nel mio cuore e nella mia vita. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!